Ciao a tutti, sono Andrea Maggi e questo è il mio ultimo romanzo, Storia di amore e di rabbia, edito da Giunti. Il protagonista si chiama Ibra, ha 17 anni, è nato in Italia da genitori senegalesi e vive in una periferia molto difficile, dove due gang rivali si contendono il primato. Ibra si innamora di una ragazza che si chiama Aurora, è nata anche lei in Italia, da genitori albanesi, ma questa storia d'amore è ostacolata, ostacolata dal fatto che Ibra è parente del capo di una delle due gang e Aurora è parente del capo dell'altra. In questo conflitto, in questo clima, in questo ambiente dominato dalla rabbia, potrà l'amore trionfare? Scopritelo leggendo Storia di amore e di rabbia.